Di prove non ce ne sono, ma qualche timido indizio dal profondo del sistema solare sembra emergere. Piccoli segnali che ci dicono che in passato sul pianeta Marte forse c'erano le condizioni necessarie per la vita. Per ora abbiamo semplici molecole organiche trovate nel sottosuolo e metano nell'atmosfera e rimane difficile spiegarne la presenza. Piccoli tasseli di vita scovati dal rover mandato in missione dalla NASA in un cratere, i resti di un antico lago al cui interno sono state trovate molecole a base di carbonio e zolfo, molecole delle quali tuttavia non si conosce l'origine. Malgrado questo passo avanti ancora non siamo arrivati a trovare prove certe di vita del tipo aminoacidi e acidi nucleici che formano proteine e DNA. Sarà questo il compito delle prossime missioni su Marte a partire da quella della ESA nel 2020, a differenza della missione attuale e quella dell'Agenzia Europea, sarà in grado di scavare fino a due metri di profondità rispetto ai tre centimetri di oggi e una enormità. Questo permette di nutrire la concreta speranza di fare un salto in avanti nella ricerca della vita.